Sì, siamo contenti perché finalmente si è riuscito a chiudere il cerchio rispetto a queste deleghe, in queste settimane abbiamo ragionato insieme ai consiglieri metropolitani, insieme ai rappresentanti di partito, ma in generale anche insieme ai territori, ai sindaci, per capire bene come queste deleghe possono essere funzionali a tradurre in fatti concreti quelli che sono i compiti della città metropolitana e anche gli obiettivi che l'amministrazione, la nuova amministrazione metropolitana si propone. In questo ente di secondo livello che prevede l'esistenza di un'aggiunta, ma di fatto non prevede l'esistenza di assessori, i consiglieri delegati sono fondamentali al raggiungimento di questi obiettivi e sono contento che si sia riusciti a trovare la quadra. Naturalmente la parola d'ordine è il lavoro di squadra, per tanti motivi. Il primo è che molte deleghe tra di loro si affiancano e quindi lavorare in sinergia è fondamentale perché alcune deleghe sono intersettoriali e sono trasversali, ma soprattutto perché i territori metropolitani, come abbiamo visto anche in questi giorni, nei sopralluoghi, negli incontri fatti nella Locride, fatti a Platia, a San Luca, hanno uno stretto bisogno di sentirsi vicino alla città metropolitana. In questo senso naturalmente c'è bisogno di tutti, ci sarà bisogno anche dei consiglieri di minoranza, quindi lavoro di squadra e sinergia tra tutti.